E' arrivato l'ok del governo per i fondi per la bonifica di Bagnoli. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lasciando Palazzo Chigi al termine della cabina di regia con il ministro Raffaele Fitto, ha confermato che da parte del governo c'è la volontà di proseguire con il finanziamento per terminare il risanamento. Ulteriori risorse saranno dunque stanziate per la riqualifica, fino ad arrivare ad una cifra complessiva di 1 miliardo e 200 milioni. Entro la fine di marzo l'ente attuatore in Vitalia dovrà ufficializzare le richieste economiche e procedere con gli accertamenti tecnici del caso. Si dice soddisfatto il sindaco Manfredi, finalmente ci sono tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare quello che era quasi diventata una chimera. L'obiettivo è completare il tutto entro il 2030, aggiunge. Sono convinto che questo sia il momento giusto per riconsegnare ai cittadini e a tutto il paese il territorio straordinario di Bagnoli.